Nonostante la sua follia, Carlo VI rimarrà per i suoi sudditi l'amato, che rimosse dal potere nel 1388 i suoi zii, Duchi D'Angio, Borgogna, Berry e Bourbon, la cui politica fiscale aveva suscitato a Parigi la rivolta dei Maiottin e la rivolta delle città delle Fiandre. Con gli ex consiglieri di suo padre, Carlo VI, ristabilì la concordia nel regno. Dopo la tragedia del ballo degli ardenti assistiamo a processi e cerimonie espiatori ovunque nella speranza di scongiurare la maledizione caduta sul re e quindi sulla Francia. I principi stessi devono andare in processione scalzi a Notre Dame. La prostituzione e il gioco d'azzardo sono vietati e tra i principali accusati di aver fatto adirare Dio contro la Francia gli ebrei che furono espulsi dal regno.